5, 4, 3, 2, 1, via, anche le categorie A4, A5 e A6 è valida, rimanete dietro le moto, rimanete dietro le moto fino a che non viene dato il via ufficiale, ok? In bocca al lupo, in bocca al lupo, le categorie A4, A5 e A6 Per quanto riguarda l'A4, la 5, la 6, gruppo, gruppo compatto, gruppo compatto, gruppo compatto Agliana, A4, A5 e A6 Secondo passaggio, secondo passaggio per quanto riguarda l'A4, la 5 e la 6 Wow, sempre tutto compatto per quanto riguarda l'A4, la 5 e la 6 Gruppo compatto, secondo giro Oramai tanto atteso, della 4, la 5 e la 6 Vediamo, ci davano questa fuga E uomo solo al comando La maglia indiscussa E io voglio che il Panconi Panconi a braccia alzate Braccia alzate, Panconi E in volata Nuovamente Il dorsale 267 E 277 Papi Insieme a Menconi Menconi Attenzione Attenzione Panconi L'uomo dei mille attacchi L'uomo dei mille attacchi E' riuscito Veramente a conquistare Agliana Panconi Dietro a scorta tecnica in arrivo Uomo Sembrerebbe Nuovamente Un uomo solo Solo dietro a scorta tecnica Vediamo Di chi si tratta Vediamo di chi si tratta L'uomo solo E infatti Arriva A conquistare A conquistare Un ottimo piazzamento Renzetti Sempre Nella fuga La volata La volata Attenzione Attenzione E Con Valle su Bartuotti Attenzione C'era anche La volata Del plotone Regolata Da Un photo finish O con Valle O Bartuotti